Fare ed essere comunità ai tempi dell'Alzheimer sembra una traduzione del libro di Marquez che invece parlava di peste. L'Alzheimer non è una peste ma è una malattia che è sempre più presente nelle nostre realtà, nei nostri contesti, non solo sanitari ma soprattutto familiari. Per cui l'autrice di questo bellissimo convegno è un'associazione, Puglia Alzheimer, che è costituita da più realtà che vanno dal Gargano al Salento, nonché terra di Bari, e che ha lo scopo e l'obiettivo fondamentale di parlare di questa tematica, di farla conoscere, di presentare ai policymaker, a coloro che decideranno e decidono quali sono i servizi migliori per una buona sanità, linee guida e indicazioni che vadano nella direzione di aiutare la persona che ha la malattia e di chi si prende cura della persona, che sappiamo è in questo momento solo la famiglia, ma la famiglia è sola. Dunque un'associazione composta da malati, familiari, volontari e operatori della salute. Insieme si può vincere la sfida, insieme si può vivere anche con la malattia, perché come dico sempre, la malattia non toglie la vita, ma la vita deve avere una qualità. La qualità avviene anche dalle cure, dall'assistenza che si riceve, dai servizi dedicati e che siano l'eccellenza il top. Questo convegno vuole essere la promozione di un'assistenza di eccellenza imparando da altri paesi. Se in America hanno inventato il Virtual Demensia Tour, che permette a operatori della salute e a familiari di comprendere quali disagi il malato vive, perché non andiamo a imparare da loro e quindi abbiamo come ospite la ideatrice e fondatrice della Virtual Demensia Tour. I caffè Alzheimer in Olanda sono presenti in tutto il territorio, sono un momento di alleggerimento della fatica del familiare, ma anche di partecipazione da parte del malato. Se in Olanda l'hanno inventati, perché non andiamo noi a imparare in Olanda come si fanno, anziché fare sperimentazioni che non servono a nulla. Dunque, le terapie non farmacologiche aiutano a vivere meglio in famiglia, senza ospedalizzare la persona. Perché dobbiamo mandare la persona via dalla sua abitazione? Il gruppo CARE con il dottor Cilesi sperimenta, inventa e valuta le terapie non farmacologiche. Impariamo da lui e lo invitiamo affinché ci spieghi bene e ci faccia formazione su questo. E così per ogni tema che abbiamo portato in questo convegno, vogliamo mandare un messaggio anche ai politici, ai policymaker, a coloro che decidono i piani per la sanità, che si deve imparare dall'eccellenza e fare anche in Puglia l'eccellenza. Abbiamo parlato di assistenza primaria fondamentalmente, cioè di tutto ciò che non c'è oggi in Italia fuori dall'ospedale. Abbiamo parlato di territorio, assistenza domiciliare, assistenza residenziale, abbiamo ascoltato i nuovi metodi di assistenza sul paziente con Alzheimer. Questo è un paese che invecchia, ormai lo leggiamo dappertutto, è un paese che invecchia e nel quale le politiche sull'assistenza extraspedaliera ormai latitano da troppo tempo. I dati ultimi del Censis dicono che fra un po' questa sarà la vera emergenza nazionale, quindi dobbiamo occuparci oggi, anzi ieri, di questa tipologia di pazienti e spendere bene le risorse in base a modelli di assistenza che siano integrati. L'assistenza domiciliare e l'assistenza extraspedaliera consente non solo di risparmiare, ma di dare a queste persone vita e qualità della vita. Anche l'Alzheimer, che appare essere un'emergenza quasi irreversibile, se prevenuta e curata per tempo con metodi giusti, può non solo ridurre la spesa, ripeto, perché si parla solo di questo, ma dare qualità di vita ai pazienti e alle famiglie. L'assistenza domiciliare in questo paese è la cenerentola del sistema. Anche l'assistenza domiciliare fatta bene con soggetti accreditati, con qualità, può tenere queste persone nelle loro case. E' facile intuire come in una patologia come l'Alzheimer, poter stare nella propria casa, avere intorno i propri suppelletti, i propri cari, aiuta moltissimo. Allora occupiamoci di questo perché il tempo è breve. Ho ritenuto opportuno lanciare un messaggio nella direzione di una consapevolezza acquisita dell'importanza di fare fronte a nuovi bisogni che derivano anche dall'aumento dell'età media della popolazione italiana. La consapevolezza di dover rispondere, di dover fare grande attenzione sull'uso delle risorse finanziarie è un'integrazione fra pubblico e privato fondamentale, fra le strutture sanitarie, gli ospedali e tutto ciò che è intorno alla medicina del territorio e il mondo del privato che molto spesso risponde in modo egregio anche ad alcune carenze del sistema pubblico. La Regione Puglia ha approvato i nuovi regolamenti, siamo nella fase di monitoraggio del far bisogno quindi della indicazione, della individuazione delle emergenze. Su questa strada dobbiamo continuare aumentando anche l'impegno finanziario che non può consistere in un aumento generalizzato ma nella individuazione di necessità e nella spesa mirata. Ho parlato soprattutto dell'efficacia delle terapie non farmacologiche applicate a persone fragili con demenza e con l'idea di creare sempre di più una sinergia tra queste terapie che comunque sono risultati efficaci alcune sono molto innovative come la doll therapy, la terapia del viaggio, la musicoterapia che è comunque una terapia storica per dire che le persone a casa o in struttura possono essere aiutate non solo dal farmaco che è comunque importante ma anche da queste terapie che danno equilibrio tra i dosaggi dei farmaci e sono dei non farmaci che in realtà migliorano la qualità di vita di queste persone. Una terapia non farmacologica funziona se ci sono dei dati oggettivi, questo è un po' il tema perché solo con questo noi possiamo dare forza ed efficacia a queste terapie. Inoltre ho trattato anche dei servizi flessibili che sono applicati all'interno delle comunità quindi centri diurni, centri notturni, ambulatori che sono tutti servizi che devono essere d'aiuto alle persone ai bisogni, alle famiglie, degli operatori che sono spesso a volte soli per affrontare questa malattia che è la malattia del millennio perché in realtà i dati che noi abbiamo sono sempre più allarmanti perché stanno aumentando i casi a livello nazionale ma anche internazionale quindi è una malattia che ha bisogno di sostegno da parte delle istituzioni ma anche un aiuto concreto da parte della comunità scientifica e di tutte le persone che operano all'interno di questi percorsi di cura. Ho parlato soprattutto di un nuovo modello di assistenza domiciliare, Ottimus Domi è un modello che è nato al nord e che vorremmo portare anche in Puglia è un modello che mette al centro la persona in quanto tale che non tiene conto della malattia ma soprattutto ne segue il suo percorso di vita quindi parte dalla storia di vita per poter poi mantenere la persona autonoma all'interno del contesto abitativo abbiamo una partner con l'America, con il Virtual Demential Tour, con la dottoressa P.K. Beville e stiamo portando in tutta Italia il Virtual Demential Tour esperienza che tra l'altro abbiamo provato prima noi al nord che sta dando ottimi successi anche all'interno delle strutture dell'RSA il Virtual Demential Tour è un percorso che attraverso l'utilizzo di strumenti la persona entra nei panni della persona con decadimento cognitivo crea e migliora l'empatia che l'operatore, il caregiver, il familiare deve far emergere per instaurare un nuovo modo di comunicare quindi vengono abbattuti ad esempio una cosa importantissima quelli che finora sono stati chiamati disturbi comportamentali che non sono altro che una reazione della persona che ha un decadimento cognitivo e che ha bisogno di esprimersi nel momento in cui noi entriamo in empatia riconosciamo qual è il messaggio che lei vuole darci Nella malattia di Alzheimer si sono messi in luce i meccanismi biologici della malattia e noi siamo in grado di fare oltre la diagnosi clinica la diagnosi biologica e diciamo in queste settimane FDA per la prima volta che l'ente regolatorio statunitense sta esaminando una richiesta di entrata sul mercato del primo farmaco causale che è un farmaco amminoideiro quindi la conoscenza biologica è fondamentale e stiamo grazie alla conoscenza biologica anche nella pratica clinica ad un punto di svolta per cui forse per la prima volta avremo delle terapie causali questo evento è teso a sottolineare come l'Alzheimer non sia solamente meccanismi e proteine alterate ma sia una malattia complessiva che riguarda riguardando il cervello riguarda la persona nella sua complessità e la persona nella sua complessità non è qualcosa di isolato ma di immesso in un sistema ricordo che solo in Puglia ci sono probabilmente dai 50 ai 100 mila pugliesi con malattie neurodegenerative in larga parte demenzia in larga parte Alzheimer quindi porsi il problema di come fattori sociali influenzino la comparsa e poi il decorso della malattia in questa società in cui i connettori tipo la famiglia o l'aggregazione in passato data dalle chiese o dalle scuole sta venendo meno e sono fenomeni che vanno studiati e su cui bisogna intervenire né più né meno che sulle proteine e sui processi più puramente biologici io sono un psicologo che ha lavorato nella nostra crontazione in l'argete in l'argete di del 90 e in 1997 ho ho com'è in l'argete di alzheimercafe per com'è un'argete di dimensi e una famiglia di isolamento e utolementi e un'argeto di un'argete di dimensi e un'argeto di dimensi perché le persone con demensi ancora molto in questo processo che era un'argetto di In Nederland abbiamo in questo momento ongeveer 250 alzheimercafés. In un strano di circa 7 km è un alzheimercafé per la prescrizione per i patiènti e per la famiglia. Questo alzheimercafé sta in Nederland in più di 22 anni. Alla Europa e anche il tutto il mondo. Japan, l'Ameria, l'Australia, l'Ameria. Io sono arrivato a Italiè per provare una linea in l'alzheimercafé in Italia. Perché ci sono molte regioni che facciano in un'altra maniera. E' importante che l'alzheimercafé in Nederland, l'alzheimercafé, avviene. Il mio contributo è stato quello di portare dei dati circa una ricerca che è stata fatta, condotta in Lombardia, nello specifico nell'area di Milano e di Bergamo, su come diventare dementia friendly. Il movimento delle dementia friendly communities è un movimento internazionale che cerca di portare un atteggiamento sociale più inclusivo nei confronti delle persone con demenza. Non è semplice fare questo tipo di cambiamento sociale proprio perché l'interazione interpersonale con le persone con demenza risulta molto difficile nel momento in cui le persone non rispondono esattamente come noi siamo abituati a conversare con le altre persone. Tale per cui di solito si tende ad avere una esclusione, una stigmatizzazione anche un po' del paziente con demenza. Le dementia friendly communities vogliono scardinare un po' questo stigma e cercare di far veicolare un po' un'idea di possibilità per le persone con demenza di continuare ad avere una loro autonomia e contemporaneamente di riuscire a mantenere delle traiettorie di vita ancora possibili nonostante la diagnosi di demenza. Nel fare questo abbiamo cercato di proporre alle persone normali quindi alle persone che non sono familiari di persone con demenza di prendere il punto di vista di un paziente nel momento in cui vanno a fare la spesa piuttosto che si incontrano con vicini di casa attraverso dei video a 360 gradi che possono essere esperiti con degli occhialini virtuali. Questo ci ha permesso di raggiungere anche le nuove generazioni, le scuole soprattutto superiori o le scuole anche primarie per permettere di avere poi una riflessione rispetto a come ci si sente ad avere tutti i giorni magari la fretta delle persone che in un qualche modo non si rendono conto delle difficoltà che si esperiscono. I dati che ho discusso in questo convegno ci hanno mostrato invece come nel momento in cui si riesce a far comprendere alle persone che non hanno idea di come si vive con la demenza quali possono essere le semplici difficoltà l'atteggiamento cambia, quindi cambiano le priorità, cambiano le bisogni e si concede alla persona con demenza non un'assistenza ma un supporto nella vita di tutti i giorni. Grazie. 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 Grazie.